Isola dei Famosi, la prima puntata al questo lunedì 17 aprile su Canale 5. Sta per prendere il via la prima puntata della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi 2023 su Canale 5, l'appuntamento è per questo lunedì 17 aprile alle ore 21 e 30 circa. Ancora una volta alla conduzione ci sarà Larry Blasi, confermato anche Alvin come inviato live in Honduras. Mentre gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria, riconfermata dallo scorso anno, ed Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino. Questa sera quindi i nuovi naufraghi sbarcheranno sull'isola dopo il consueto tuffo dall'elicottero e raggiungeranno a nuoto la terra di Kaios Kokinos, dove inizieranno una nuova avventura. Per quanto riguarda i concorrenti uomini ci saranno, Marco Predolin, conduttore televisivo. Già conosciuto in passato già partecipante al Grande Fratello Vip. Ci sarà anche Andrea Lucicero. Ex volto del rugby italiano e attualmente conduttore televisivo. Ci sarà anche il giornalista. Alessandro Cecchi Paone, insieme al suo compagno, Simone Antolini. Sempre per quanto riguarda gli uomini dell'Isola dei Famosi 2023. Ci sarà anche Christopher Leoni, attore e modello brasiliano e il duo radiofonico Paolo Noise e Marco Mazzoli. Vi sarà Fabio Ricci, il componente maschile del duo dei Alice. Per quanto riguarda invece i cast delle donne ci sarà Fiore Argento, figlia del regista Dario Argento e sorella di Asia Argento. Ci saranno anche l'attrice Kerin Clary, la modella Elena Prestes, la quale non ha mai partecipato a nessun reality show, Pamela Camassa. Fidenzata del conduttore Filippo Bisciglia. A completare il cast delle donne sono l'attrice Natali Caldonazzo, la modella e personaggio televisivo Claudia Motta, la ex suora di The Voice e Cristina Scuccia e, infine, Alessandra Drusian, voce femminile degli Alice. L'Isola andrà in onda ogni lunedì sera alle ore 21.30 circa su Canale 5, e contemporaneamente in streaming su Mediaset Infiniti. Poco prima, alle ore 20, andrà in onda Isola Party condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti. Che con interviste inedite, ospiti, giochi e tanti scupi intratterranno il pubblico su Mediaset Infiniti. Il tutto targato con l'hastag Festa sull'Isola. Andrà in onda anche una striscia pomeridiana, il Daytime, dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5. Ed anche sulla 5 e Mediaset Extra sempre da lunedì al venerdì alle ore 20.30. Grazie 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 Grazie.